Io credo che bisogna votare sì al referendum per la riforma della Costituzione per ridurre il numero dei parlamentari, sopprimere quindi il Senato nella forma attuale che prevede appunto l'elezione diretta dei senatori, non sarà più così, il Senato sarà formato da sindaci e consiglieri regionali che non avranno alcuna indennità, quindi riducendo anche i costi della politica e si ridurranno anche i tempi di approvazione delle leggi. Mi sembrano tre punti oggettivi e tre punti importanti e positivi per votare sì, ridurre i tempi di approvazione delle leggi, perché? Perché non ci sarà più questo pingy pong che attualmente c'è tra Camera e Senato, un disegno di legge viene approvato alla Camera, poi viene inviato al Senato, se il Senato lo modifica anche solo di una virgola torna a quel punto alla Camera e si realizza un avanti e indietro, una navetta come a volte abbiamo sentito dire un pingy pong che rallenta i tempi di approvazione delle leggi che invece spesso sono leggi che vanno approvate con una certa celerità, a maggior ragione in questo momento, un momento di crisi, servono risposte puntuali e precise, ridurre il numero dei parlamentari, ridurre i costi della politica. Istituzioni più semplici, più efficienti, meno costose, un rapporto con i cittadini che viene premiato, che viene premiato nel dare più potere ai cittadini e questo ha l'occasione per trasformare queste lunghe discussioni che abbiamo fatto nel centro-sinistra, ma non solo nel centro-sinistra, per portarle finalmente a compimento. Secondo lei l'ingranaggio della comunicazione da parte del Partito Democratico nei confronti dei cittadini su queste ragioni si è inceppato da qualche parte? L'ingranaggio della comunicazione è sempre inceppato, noi dobbiamo cercare di essere più semplici possibili. Volete voi finire con il bicameralismo, come diciamo da 30 anni? Bene, votate sì. Volete tagliare un terzo dei parlamentari? Votate sì. Volete ridurre i costi della politica? Votate sì. Questi e altri motivi ispirano il votare sì. La riforma riguarda soprattutto la parte seconda della nostra Costituzione, che è quella che attiene agli strumenti per far funzionare meglio la Costituzione, ma i principi fondanti, i valori principali della nostra Costituzione, che peraltro è una delle più belle del mondo, non sono stati toccati. Non si riesce a capire perché su questo punto nessuno dice niente. C'è una voglia di modificare quello che è il funzionamento della Costituzione e penso che il legislatore ci sia riuscito. Peraltro possiamo dire che è frutto di un compromesso politico e quindi non è affatto, possiamo avere una modifica completa, ma il risultato è questo. È un incontro importante grazie al centro studio di Salvatore Aldisio per fare capire alla gente l'importanza del referendum. Tutti abbiamo chiesto da tantissimi anni, alla riduzione dei costi della politica, alla riduzione dei parlamentari, ecco che allora c'è l'opportunità da parte degli elettori e da parte degli italiani di votare sì e quindi mettere in atto in pratica quello che abbiamo chiesto già da tantissimo tempo.